Bentornati su Spotlight Educational. Oggi vi voglio parlare di Cognito, la console luci prodotta da Pathway e distribuita in Italia da Spotlight. Si tratta di un banco luci estremamente compatto ed estremamente intuitivo. Lo imparerete rapidamente e sarete in grado di gestire palchi fino a 350 proiettori motorizzati a led convenzionali con estrema facilità. Mettiamola alla prova e scopriamola insieme. Come potete vedere le dimensioni sono veramente ridotte. Una console stand alone con schermo touchscreen sottile, compatta e resistente. Potete tranquillamente infilarla in uno zainetto e portarla così in tournée. Per quanto riguarda il software, Cognito si basa sulla filosofia di Select, Control, Record, Play. Ovvero, seleziona gli strumenti che vuoi controllare, impostane le device, l'indirizzo di MX, controllali attraverso le schermate di intensità, di colore, di posizione o di forma, registra le memorie, i gruppi o le sequenze necessarie e manda in scena lo spettacolo. Non mancano funzioni avanzate come ad esempio in caso di proiettori a led, il controllo RGB o il color picker e nel caso della posizione una trackball virtuale o un bullseye. Infine, ciascun parametro ha un proprio motore d'effetti. Invece, per quel che riguarda l'hardware, abbiamo due uscite fisiche di DMX, l'uscita via Artnet, un DMX in che permette di collegare qualsiasi console come espansione di fader, le porte MIDI per gestire i protocolli audio, la porta HD per collegare un comodo monitor di visualizzazione che permette di tenere d'occhio il palco in tempo reale, nonché quattro porte USB per poter salvare il backup del proprio spettacolo e trasferire lo spettacolo da una console all'altra o sulla versione on PC. Cognito è tutto questo e molto altro. Una console ricca di funzioni e tutta da scoprire. Potete farlo da soli, scaricando il software gratuito on PC dal sito di Pathway, oppure potete passarci a trovare a San Giuliano Milanese, presso la nostra showroom. La troverete esposta e collegata a un impianto luce professionale con possibilità di provarla per test e dimostrazioni. Continuate a seguirci numerosi sui nostri canali web. Arrivederci alla prossima! Grazie a tutti!